Svegli a dieci. Bagno crema Nivea Un bagno di delicata dolcezza che purifica la tua pelle nutrendola con l'azione delle proteine. Bagno crema Nivea Purezza che nutre. Ciao! L'ho aspettata tutta la notte. Ancora lei? Aspettami. No, grazie. Guardala da questo lato. Diciamo che tu ti sei fissato col miele. Però puoi stare benissimo anche col burro, con la marmellata o addirittura da solo. Che ne dici? Dico che mi è venuta fame. Fette biscottate. Buitoni. Il lato buono del mattino. Buitoni. Star bene a tavola. Anche su Gran Fetta trovi buoni Buitoni per avere i regali della tavola in fiore. Lo sapevo. Ancora sporco. Rossetto, è il colmo. Non verrà mai pulito come prima. Questa camicetta devo lavarla ancora. Che rabbia! Ecco Dixan 2000 che elimina le macchie grazie all'energia anticalcare. Dixan 2000 elimina il calcare per agire più a fondo contro le macchie. Dixan 2000, campione contro le macchie. attento! La mia frutta! Comunque lo guardi, il bollino blu è solo sulla migliore. Grazie. Chiquita, dieci all'ode. Come fai a riconoscere subito l'ananas migliore? Dal bollino blu. Ecco a voi l'ananas Chiquita. Chiquita, dieci all'ode. È il primo gel liquido per lavastoviglie. È Finish Lemon Gel Liquido, facile da dosare. Così suono. Per un pulito senza traccia. È una brillantezza insuperabile. Una trasparenza mai vista. Finish Lemon Gel Liquido. Finish, il numero uno. Nuovi pneumatici continental. Ogni pericolo della strada è calcolato al millimetro. Continental, pneumatici per eccellenza. Teoro Disney è aperto. Viene a scoprire un mondo spettacolare di magia e di avventura. Il nuovo centro Euro Disney. Sei alberghi con incredibili strutture per lo sport e il divertimento. Un mondo nuovo, per vacanze da sogno. Telefona subito per prenotare il tuo soggiorno o per altre informazioni. Midra non è solo bagno latte, è anche doccia latte. Dai, disseta la tua pelle. E tu, ti senti al massimo. Doccia latte Midra. La tua pelle ha sete di latte. A tu per tu con l'avvocato più famoso del mondo. Umano, onesto, geniale. Il nostro amico per rimeso. Questa settimana un film ricco di sassi. Sconvolto dal suicidio del fratello, David, per vendicarlo, cerca Stuart, il presunto responsabile di quella morte. La figlia di David si rivolge a Perry Mason quando incolpano il padre della morte di Stuart. E... Una ragazza intraprendente. Prima visione TV. Giovedì 7 maggio, alle 20.30 su Rai2. Ah, mia cara...